La Cina è un paese enorme, con quasi 1,4 miliardi di persone. È il terzo paese nel mondo per superficie. Amministrativamente la Cina include 22 province, 5 regioni autonome, 4 municipalità che non fanno parte di nessuna provincia, 2 regioni amministrative speciali e un'area di autogoverno. Ci sono 5 categorie con un totale di 34 nomi di luoghi. A volte in questa presentazione userò il termine province per indicare genericamente tutte e 34 queste aree. Quali sono i loro nomi? Per gli italiani, i nomi di luoghi cinesi possono sembrare un po' confusi. Alcuni nomi possono anche avere un suono molto simile. Compara i nomi di queste tre province. Tutti e tre i nomi sono simili. Ascolta i nomi di queste due province. Le differenze di ortografia e pronuncia sono molto sottili e sono due province confinanti. Pensi che sarà difficile imparare i nomi e la posizione di queste province? Non è un compito molto diverso da quello che i turisti o gli immigrati devono affrontare quando vogliono imparare i nomi e la posizione dei 50 stati degli Stati Uniti. Riesci a trovare l'Alabama? È difficile anche per molti i cresciuti negli Stati Uniti. Però considera questo. Se ti mostrassi la posizione del Sud Dakota, potresti probabilmente intuire dove trovare il Nord Dakota. O se ti mostrassi la posizione del Nord Carolina, potresti immaginare la posizione del Sud Carolina. Il fatto che i nomi includano direzioni, come Nord e Sud, aiuta molto. La maggior parte dei nomi degli Stati Uniti non dà indizi, però. E i nomi delle province e delle località cinesi? Non preoccuparti. Sono molto più facili. Molte province cinesi hanno nomi descrittivi. 13 delle 34 aree amministrative includono le parole Nord, Sud, Est o Ovest. Imparare le parole cinesi per i punti cardinali ed un altro paio di parole come montagna, fiume o lago renderà facili molti nomi delle province. Noi ci concentriamo sui toponimi cinesi usati nelle mappe e nelle guide turistiche. Stai attento perché alcune città hanno una doppia vita. Il miglior esempio di questo è Beijing, la capitale della Repubblica Popolare Cinese. Per motivi storici questa città è anche chiamata Pechino. Quindi ricorda, se parliamo di Pechino o Beijing, è la stessa città. Questo video include esempi di corretta pronuncia cinese dei luoghi, forniti da un madrelingua. Per aiutare chi sta imparando il cinese, verrà mostrato il Ping Yin con i segni tonali. Però non ti preoccupare, il nostro obiettivo è imparare la geografia, non perfezionare la pronuncia cinese. Alla fine di questo video dovresti essere in grado di parlare delle province cinesi con altri italiani ed individuarle sulla mappa. Per iniziare, focalizziamoci un attimo su alcune città cinesi molto famose. Guardiamo tre capitali del presente e del passato. Molti di noi hanno sentito parlare dei guerrieri di terracotta di Xi'an. Alcuni secoli fa è stata la prima capitale dell'impero cinese. Nota che la X si pronuncia X. Nanjing è stata la capitale cinese durante il governo di otto dinastie imperiali, cominciando circa 1800 anni fa. È stata la capitale della Repubblica Cinese in vari periodi. In passato, chiamavano questa città Nanchino. È una capitale passata e presente. Spesso la chiamiamo Pechino, però è il nome più utilizzato nella maggior parte del mondo ed è sempre più diffuso anche in Italia. Così abbiamo deciso di usarlo in questo video. Questa città è una delle municipalità che non fa parte di nessuna provincia. Menziono queste città perché i loro nomi includono le parole cinesi per i punti cardinali. Possiamo usare i nomi di queste tre città per ricordare i nomi di tre dei quattro punti cardinali. Beijing significa letteralmente capitale del nord. Quindi per ricordare ricorda Nanjing significa capitale del sud. Pensa a per ricordare che Nan significa sud. Xi'an significa pace dell'ovest. Ricordalo per sapere che Xi'an significa ovest. Per ricordare la parola est penso al suono della campana. Est si traduce Tong quindi ricorda che Tong significa est. Ok, impariamo i nomi e le posizioni di alcune province importanti nel cuore della Cina. Molte aree cinesi sono montuose però concentriamoci su un paio di catene montuose nel nord-est della Cina. Xi'an è la parola cinese per indicare la montagna. Guarda il carattere cinese, sembra una montagna. Ci sono province ad est ed ovest di queste montagne. Combina le parole montagna ed est ed ottieni Shantong. Questa parola è il nome della provincia ad est di queste montagne. Montagna più ovest è Shansi il nome della provincia ad ovest delle montagne. Vicino c'è una provincia chiamata Shansi anche se Shansi assomiglia molto alla parola montagna è diversa. Immagina le due lettere A come due montagne con un sentiero o un fiume che passa tra i picchi. Stiamo descrivendo un passo montano. Il nome Shal si assegna ad un passo montano collocato nella posizione indicata in rosso nell'immagine. Ricorda Shal non significa passo montano ma il nome è di uno specifico passo montano. Allora i cinesi chiamano la provincia ad ovest del passo Shal più ovest Shansi È abbastanza facile ricordare queste tre province ed i loro nomi. Osserva la posizione della capitale Beijing in relazione a queste province. Il fiume giallo nasce dalle alture delle montagne ad ovest della Cina. È il sesto fiume più lungo del mondo e scorre in nove province. Il bacino del fiume giallo è considerato uno delle tre culle della civiltà del mondo. In Cina viene anche chiamato fiume madre. Secondo la leggenda è la continuazione terrestre della Via Lattea. In cinese Significa significa fiume. Osserva le province senza etichetta a nord e sud del fiume. Fiume e nord produce il nome della provincia a nord del fiume. La combinazione di fiume e sud ci dà la provincia a sud del fiume. Considera le parole che abbiamo appreso fino ad ora. Puoi vedere come sono state usate per dare il nome alle province illustrate. E' stato facile. Andiamo avanti. Il lago evidenziato nella mappa è stato ingrandito per evidenziarne la posizione. La posizione del lago è importante. Il nome non è fondamentale. La parola cinese per lago è hu Puoi probabilmente indovinare come ci aiuterà questa parola. Lago e nord ci dà hubei il nome della provincia a nord del lago. Aggiungendo sud dopo la parola lago si produce hunan la provincia a sud del lago. Impariamo il nome ed il luogo di un'altra città cinese. Guangzhou ha una popolazione di 13 milioni di persone. E' la terza città più grande della Cina. E' possibile che tu ne abbia sentito parlare con il nome di Canton. Questo deriva dal nome dato alla città dai commercianti e colonizzatori portoghesi. Nota che in cinese ZH si pronuncia Zhe quindi Zhou si pronuncia Zhe Ricorda il nome Guangzhou La prima parte del nome Guang è anche il nome dato ad una grande regione del sud della Cina. La parola Guang viene generalmente tradotta come espansione. Quindi questa grande area della Cina è l'espansione Guang Quale pensi sia il nome delle province che formano l'espansione? Per la provincia d'est usiamo Guang più la parola per est otteniamo Guang Dong e la provincia d'ovest indovinato Guang più la parola per ovest Guang Xi Per semplicità l'abbiamo chiamata una provincia in realtà è una delle cinque regioni autonome per ora ricorda solo il suo nome Guang Diamo un'altra occhiata a Beijing la capitale della Repubblica Popolare Cinese è una delle quattro municipalità puoi vedere dalla mappa che è quasi interamente circondata dalla provincia Hubei L'uso di nomi descrittivi ha reso questi toponimi molto facili abbiamo già esaminato dieci delle trentaquattro aree amministrative pronto a metterti alla prova guarda la mappa qual è il nome della capitale al nord della Cina si e questa provincia ad est delle montagne corretto e quella ad ovest delle montagne esatto stai andando alla grande è la provincia ad ovest di un certo passo montano esatto ok qual è la provincia a nord del fiume certo e a sud del fiume come si chiama la provincia esatto e al nord del lago lago più nord e a sud del lago si e il lato est dell'espansione e il lato ovest dell'espansione espansione più ovest è stato quasi troppo facile facciamo una pausa per alcuni consigli di pronuncia e ortografia l'ortografia romanizzata dai luoghi cinesi si basa su un sistema di trascrizione fonetica chiamata i suoni del non corrispondono sempre alla pronuncia italiana di cui caratteri ascolta i nomi di queste due province nota che la H ha un suono forte ed aspirato come l'H in inglese il suono della vocale E non ha nessun suono equivalente nella nostra lingua il suono è simile alla E francese di Ascolta E la H e la E insieme? Ascolta il suono della parola fiume nome della provincia la parola cinese per lago suona come la vocale la H è di nuovo il suono forte ed aspirato dell'H inglese il cinese è una lingua tonale ed il normalmente ha i segni tonali sopra le vocali guarda il nome della capitale in i segni tonali indicano quale dei quattro toni usare per pronunciare ogni sillaba di solito nei libri cartine e guide turistiche i segni tonali vengono messi ripassiamo i nomi di due province questi sono molto difficili c'è una differenza molto sottile nel tono della prima sillaba in questo caso ha un tono alto e costante invece in quest'altro caso ha un tono più basso discendente a meno che tu non abbia studiato il cinese la differenza tra questi soni è molto difficile la maggior parte degli occidentali ha difficoltà a sentire la differenza e ci vuole molta pratica per pronunciarli correttamente in italiano si possono distinguere semplicemente dicendo ok mettiamoci di nuovo alla prova questa volta senza indizi qual è il nome di questa città Beijing qual è il nome di questa provincia 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 Qual è il nome di questa regione autonoma come è andata vedere questo video un paio di volte ti aiuterà a rendere più solida la tua conoscenza che è la capitale è la capitale finanziaria della Cina e si trova nella sua costa orientale è il nome di questa provincia ora una provincia bonus ora una provincia bonus il nome di questa provincia il nome di questa provincia è quindi questo video ha dimostrato che molte province cinesi hanno nomi logici e descrittivi siamo arrivati alla fine della prima parte di impara le province cinesi che si trova Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.